Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e finalmente dopo un anno e mezzo eccomi qui col tanto agognato video della collezione aggiornata. L'anno scorso il video è saltato, l'ultimo risale al 2019 e finalmente quest'anno, 2021, abbiamo il ritorno di questo appuntamento fisso della collezione. Ma prima di cominciare vi ricordo tre cose. La prima è che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete come sempre 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri ed è accumulabile con tutte le altre iniziative. Su Pampling trovate magliette come quella che indosso a tema Harry Potter, ma anche di tantissimi altri fandom, e anche calzini, mascherine, cover e chi più ne ha più ne metta. Sempre in infobox trovate anche il link alla mia vetrina Amazon dove ho inserito tantissimi prodotti già mostrati sul canale e altri che arriveranno e potete acquistarli contribuendo alla crescita del canale. E infine, una novità che ho deciso di inserire in questo video, in infobox troverete un indirizzo dove poter spedire tutto quello che volete, disegni, cartoline, lettere, pacchi, qualsiasi cosa, perché vorrei prendere l'abitudine, almeno una volta al mese, di realizzare un video dove apro la vostra posta, quindi liberi di spedire a quell'indirizzo tutto quello che vorrete e una volta al mese o comunque una volta accumulati un certo numero di pacchi, pacchetti, buste, lettere, disegni, mi piacerebbe molto aprirli assieme a voi. Quindi, nel caso l'idea vi piacesse, sotto in infobox trovate l'indirizzo dove mandare le cose e ovviamente commentate e fatemi sapere se l'idea vi piace. Detto questo, ragazzi, io direi di cominciare subito con la collezione, che però vi dirò, non tutto è presente nella collezione che oggi vi mostrerò, perché ultimamente ho fatto una cernita dei pezzi migliori, quelli che secondo me sono i più belli e li ho tenuti qui in esposizione, mentre invece ho deciso di eliminare un po' di roba che ritenevo secondaria e portarla giù in cantina. Quindi, magari non vedrete quaderni, tacquini, peluche, tazze, tutte queste cose le ho portate in cantina, le ho messe dentro uno scatolone perché non avevo davvero più spazio. Ma adesso, bando alle ciance, cominciamo con la collezione 2021. Ed eccoci qui, ragazzi, pronti a cominciare. Come non potevo iniziare dai libri, punto di partenza della mia collezione. Per indicare, oggi ho deciso che utilizzerò questa bacchetta di Sambuco di Noble Collection. E allora, cominciamo. Qui vedete i miei libri, i miei sette libri di Harry Potter, quelli che ho acquistato man mano che venivano rilasciati in libreria, quindi a questi sono molto molto affezionato. Ho anche le primissime edizioni del Quidditch attraverso i secoli e gli animali fantastici dove trovarli, e anche le fiabe di Bedelbardo, questi tutti acquistati il giorno che vennero rilasciati in libreria. Ho anche la sceneggiatura della Maledizione delle Rete, che ho anche in inglese, ma che non vi mostrerò. E poi anche questi qui, che sono le sceneggiature di Animali Fantastici 1 e 2, e il secondo è in lingua inglese, questo qui, perché l'ho acquistato al negozio Minalima e all'interno è autografato. Poi abbiamo l'ultimo libro che ho recensito per Salani, che è Lo scrigno del mago. Questo qui dovrebbero essere in arrivo anche quello dedicato a Serpeverde e Grifondoro. E poi abbiamo questo libretto, che è quello che mi è stato dato al Warner Bros Studio Tour lo scorso anno, con tutti i timbri all'interno, che vi ho mostrato nel video acquisti, quindi qualora ve lo foste perso andate a cercare qui nelle schede qui in alto. E poi questi mini libri di Insight Edition, delle creature, degli oggetti che vi ho recensito in passato. C'è anche quello delle arti grafiche, che è molto molto bello. Ma adesso continuiamo col secondo ripiano e troviamo questi, che sono tutti i volumi illustrati di Jim Kay, fino al Calice di Fuoco. Poi abbiamo i tre libri della Biblioteca di Hogwarts, sempre illustrati. E poi Schermi Incantati, il libro pop-up, il primo libro rilasciato. Ne ho altri due che adesso vi mostrerò, ma che ancora non ho recensito. E sono gli unici due libri che vedrete all'interno di questa libreria non ancora recensiti sul canale. Tutto il resto lo trovate già recensito all'interno della playlist Libri e Harry Potter. Poi abbiamo questo piccolo libro di Panini Comics, che è un libro pop-up e si chiama Il Magico Mondo di J.K. Rowling. Poi abbiamo tutti i vari taccuini di Panini Comics. Quello di Newt Scamander, Le Arti Oscure, Hogwarts, Diagonalli, Formule e Incantesimi, Natale a Hogwarts. Questo è invece il libro di Mielandia, quello che si gratta e dove si possono odorare i vari dolci di Mielandia. E poi questi due che invece sono quelli lì della National Gallery, che abbiamo Harry Potter, un viaggio nella storia della magia. Scusate, non National Gallery, ma British Library. Questo è l'unico volume che è arrivato in italiano per Salani, mentre il secondo, a History of Magic, non è mai arrivato in italiano e l'ho acquistato in inglese. Questo è molto molto bello, ve lo straconsiglio. E poi Harry Potter e la magia del knitting, che ho recensito da poco. Ma adesso andiamo ancora giù di un altro livello. Eccoci qui, iniziamo con questi due piccoli volumi, qui laterali, dove abbiamo le guide del Warner Bros Studio Tour e anche quella della Harry Potter Exhibition di Milano, che ho qui incastrata tra questi due volumi. Poi abbiamo, dalla pagina allo schermo, e tutti gli altri volumi ormai iconici di Panini Comics, come questo che è la magia del film, i luoghi magici, il libro delle creature, i personaggi, gli oggetti magici. E poi questi qui invece sono i volumi di HarperCollins, dedicati ad animali fantastici, come questo che è la valigia di Newt Scamander, o gli archivi della magia, che sono davvero bellissimi. E vi consiglio di recuperare, trovate sempre i video nelle schede, quindi nell'info box, nelle raccolte. Questi sono i due nuovi pop-up, quello dedicato ad Hogwarts e quello dedicato a Diagon Alley. Sono bellissimi, ragazzi, sono davvero dei pop-up strepitosi, ma devo ancora capire come mostrarveli, perché è davvero difficile da filmare, da aprire e da mostrare per bene. Guardate quanti pop-up ci sono all'interno, sono davvero complicatissimi, ma spero a breve di mostrarveli. E poi abbiamo sempre di Panini Comics l'arte di Harry Potter, che è un libro bellissimo, e questi qui invece sono dei volumi dedicati sempre a Animali Fantastici 1 e 2 di HarperCollins, che vi ho già mostrato negli altri video e che non vado a tirare fuori. Ma adesso passiamo invece alla collezione vera e propria, quindi passiamo ai vari prop. Ci siamo spostati sulla scrivania, dove ho disposto un po' di roba, come potete vedere, e abbiamo questo, che è un cofanetto di Running Press dedicato alle arti oscure, con questa maschera da Mangiamorte, ed è molto molto bella, mi piace tantissimo. E poi abbiamo qui dietro gli scacchi magici di Harry Potter, la replica degli scacchi del primo film, quelli della prova, che sono davvero molto molto belli. E poi abbiamo il calendario dell'avvento di Harry Potter, questo è quello di quest'anno dedicato al Vallo del Ceppo, questo è quello dell'anno scorso invece dedicato al primo film in generale, al primo Natale di Harry. E poi ecco che abbiamo quest'altro cofanetto sempre di Running Press, che è invece dedicato al pensatoio, dove abbiamo questa bacchetta penna di Silente e le ampolle con i ricordi, eccole qui. Ho tirato fuori per l'occasione anche le bacchette, abbiamo questa, che è quella di Nicolas Flamel, che è molto molto bella, poi abbiamo questa che ho utilizzato fino a due minuti fa di Silente, poi abbiamo sotto quest'altra molto semplice di Tina, che trovai all'epoca in offerta su MP, e poi abbiamo anche questa del Giovane Silente, che mi piace tantissimo, ha l'impugnatura in pelle, è a spirale molto molto bella. E poi abbiamo quella di Voldemort, eccola qui, e ancora questa qui di Harry, e poi quella di Newt Scamander, eccola qui, anche questa molto bella, mi piace tantissimo. Ma adesso continuiamo ancora la nostra carrellata, ci spostiamo qui sulla torta di compleanno di Harry, che vi ho mostrato molto di recente in uno degli ultimi video, l'ho presa su Etsy e vi lascio il link sotto in info box, è davvero una replica molto molto bella, è molto fedele all'originale, e poi abbiamo anche queste che sono le edizioni di Mina Lima della Pietra Filosofale, questa è quella inglese, è una prima edizione autografata da Mina Lima, da entrambi, e poi abbiamo questa che invece è la versione italiana della Pietra Filosofale, ormai introvabili entrambe. Poi abbiamo questo cofanetto di Running Press del Quidditch, che è una delle primissime cose che ho acquistato di Harry Potter, sono davvero molto molto belle queste palle, e ragazzi ancora la trovate, in ogni caso vi lascerò il link in info box di tutto quello che vi sto mostrando. E poi abbiamo questo che è uno dei miei pezzi preferiti, l'arazzo della famiglia Black, questo lo trovai in una Loot Crate, mi mandate sempre tantissimi messaggi, so che costa tanto, prenderlo su Ebay sta a oltre 100€, ma ragazzi è molto molto bello ed è l'unica replica in tessuto ufficiale al momento esistente. Poi qui abbiamo la Collector Edition delle fiabe di Bedelbardo di Amazon, questa qui ormai viaggia intorno ai 450-500€, non la apro, ma sapete dove trovarla, sempre nelle schede, la trovate recensita, aperta nel dettaglio. E poi questa, che invece è la valigetta di Running Press di Newt Scamander, e poi la tanto, tanto odiata e amata da me edizione di Michele De Lucchi di Harry Potter, l'ultima edizione rilasciata 2021 da Salani, che vi ho recensito e spiegato copertina per copertina da poco. Spostiamoci ancora, vi mostro anche qualcosa che non avevo mai fatto vedere sul canale, oltre ai Blu-ray, questo è quello olografico dei crimini di Grindelwald, abbiamo quello là, pop-up di Animali Fantastici, con lo snaso che salta fuori dalla valigia di Newt, e poi abbiamo questa, la versione 3D, e poi diversi cofanetti. Uno è questo qui, con un piccolo cofanetto di inserti in carta, e poi quest'altro che mi era stato inviato da Warner Bros. per il ventesimo anniversario di Harry Potter, diviso in due cofanetti, uno con i film e uno con i bonus disc, e poi questo che invece forse non vi ho mai fatto vedere nel dettaglio, dove ho le edizioni steelbook di Harry Potter, di tutti i film, queste qui in metallo, e la cosa che mi piace di più, che ho procurato su eBay, è questo cofanetto in metallo di Harry Potter, che è uscito soltanto in America e in Francia, e che sono riuscito a recuperare su eBay con una bella botta di fortuna, e ho potuto inserire tutti i vari film che invece in Italia venivano venduti sfusi. Qui dietro poi spicca la Fenice di Noble Collection, anche questo uno dei primi pezzi che ho acquistato, dei primi pezzi importanti, e poi abbiamo il castello di Hogwarts di Lego, che mi ha impegnato per oltre 27 ore nel suo montaggio, e che mi ha fatto divertire davvero tantissimo. Ma adesso dobbiamo spostarci in alto, perché su queste mensole ho disposto altra parte della mia collezione di Harry Potter, e quindi adesso la andiamo a vedere meglio. Cominciamo da questa mensola e troviamo l'artigiana con la sua mandragora, e anche la sua prugna dirigibile che ho commissionato, mi piacciono tantissimo, trovate i suoi riferimenti in infobox, e poi abbiamo anche la Puffola Pigmea di Etna Comics di diversi anni fa, e abbiamo anche questa che è una piccola mandragora che mi è stata regalata da alcuni miei amici che andarono a Lucca Comics diversi anni fa. Dietro troviamo la fiaschetta di Malocchio Moody di Noble Collection, questi che sono altri due oggetti ufficiali che vengono dal Warner Bros Studio Tour di Londra, e abbiamo la testolina del nottetempo, e poi qui abbiamo la Coppa 3 Magi che si illumina. Qui davanti invece troviamo la Tana che ho stampato con la mia Illigo, quindi una stampa 3D che poi ho dipinto io, per essere uno dei miei primi lavori sono molto soddisfatto. Mentre dietro vediamo questo che è il calice di cristallo che viene usato da Harry e da Silente nella grotta, sempre di Noble Collection, e poi abbiamo questo che ancora non vi avevo mostrato ed è il pugnale di Bellatrix. Anche questo l'ho stampato in 3D con la mia Illigo e anche di questo sono molto molto soddisfatto. Poi dietro ancora troviamo questa statua Enesco che ragazzi è bellissima, l'ho acquistata per soli 25€ su EMP durante le feste natalizie, era in super sconto col 70%, ma è qualcosa di spettacolare. Qui abbiamo il bolide che va a spaccare il pezzo di legno, la trave, e che sta rincorrendo Harry. È davvero molto dinamica e molto molto bella. Vi straconsiglio le statue Enesco. Poi abbiamo ancora questo pacchettino che in teoria racchiude la pietra filosofale all'interno della Gringot, e infatti questa è un po' la zona Gringot. Abbiamo anche questo che è una replica ufficiale del lingotto della Gringot che ho acquistato sempre a Londra allo Warner Bros. Tour. Abbiamo la chiave della camera blindata di Harry e poi anche le tre monete ufficiali del mondo dei maghi della Gringot con questo cofanetto di Noble Collection. Qui in alto un sacchetto della Gringot che ho preso su AliExpress e poi questa che è la borraccia ufficiale di Harry Potter con la forma della bottiglia dello Skele Gros. Continuiamo a spostarci e troviamo questi che sono gli scacchi magici che ho stampato in 3D e poi ho dipinto. Anche questi sono molto molto soddisfatto, mi piacciono tanto e spero di stampare altre cose in futuro. Poi qui dietro abbiamo il timbro di Hogwarts con lo stemma di Hogwarts si può utilizzare con la cera lacca questo l'ho preso su AliExpress. Dietro invece abbiamo il biglietto ufficiale del binario 9 ¾ che ho acquistato a King's Cross a Londra e poi abbiamo dietro questo che è lo specchio delle brame di Primark e sopra abbiamo gli spettrocoli che arrivano dall'Australia anche questi originali. E invece qui troviamo la replica Noble Collection della pietra filosofale che costa una fucilata però è davvero molto molto bella. Accanto a fare la guardia troviamo Fuffi quindi il cane a tre teste unico superstite delle statuine di D'Agostini che aveva un'esposizione molte le ho vendute ma tutte le creature le ho conservate e sono in cantina insieme ad altre cose. poi qui dietro ecco che troviamo altre cose interessanti questa che è una boccetta di Felix Felicis che ho realizzato io acquistando questa ampolla su AliExpress e poi l'ho modificata e riempita e poi questo è un pezzo di cui sono super super orgoglioso. Si tratta del calice di un calice uguale a quello utilizzato nella camera dei segreti che la Meggranit trasfigura a partire da un uccello. Hanno utilizzato un calice realmente esistente e io sono riuscito a trovarne uno su ebay. Io grazie all'aiuto di un'amica ne abbiamo presi due ma la storia è molto lunga e la trovate nei miei video. Però è un calice abbastanza raro è in cristallo bordato in oro e non è costato poco ma sono molto molto contento di averlo. Poi abbiamo questo che invece è la replica del bigliettino che Draco lancia ad Harry sul banco nel prigioniero di Azkaban ed è molto molto bello. L'ho preso su Etsy so che alcuni di voi l'hanno comprato e stanno aspettando che arrivi e spero vi arrivi presto ragazzi. Continuiamo questa escursione nella mia collezione e passiamo a questo che è probabilmente il pezzo più delicato della mia collezione si tratta della Clessidra di Lumacorn di Noble Collection un pezzo discontinuo che non è sempre disponibile e che secondo me è un miracolo che arrivi integro a casa perché è totalmente in vetro. Costa anche questo una fucilata però devo dire che questo ne vale la pena il prezzo secondo me è giustificato. Poi ecco che abbiamo l'anello di Gaunt eccolo qui quindi la pietra della resurrezione poi abbiamo anche la giratempo di Ermione tutto di Noble Collection e anche il medaglione di Serpe Verde nella sua teca. Dietro troviamo l'uovo della prima prova del torneo tre maghi quest'uno dei miei pezzi preferiti questa sfera con i dissennatori e sotto troviamo Hogwarts che sorregge questo globo anche questo di Noble Collection e poi dietro troviamo qui messa su un fianco la mappa del malandrino la replica in scala 1 a 1 che non riesco a mettere in piedi perché non entra in questo spazio. Dietro troviamo ancora un altro pezzo Noble Collection abbiamo la sfera della profezia e poi qui il calice di fuoco in miniatura anche questo stampato da me con la mia iligò a resina e anche di questo sono molto orgoglioso. l'ho dipinto io è stato il primo pezzo che io abbia mai dipinto e mi piace mi piace moltissimo il risultato probabilmente si poteva fare meglio però sono già contento così. Dietro invece troviamo il diario di Tom Riddle e la penna zanna di Basilisco di Running Press qui abbiamo la collana dei doni della morte questa non è ufficiale e poi questo invece è ufficiale ed è il pendente di Grindelwald accanto un altro dei pezzi più importanti della mia collezione il diadema di Corvo Nero di Noble Collection e poi accanto al diadema troviamo la replica di Noble Collection della coppa di Tassorosso in scala 1 a 1 e poi dietro invece Nagini sempre di Noble Collection adesso ci spostiamo al piano superiore e ci spostiamo al reparto un po' più dedicato a Mina Lima è sempre Noble Collection cominciamo da questa che è una delle ultime cose acquistate ve l'ho mostrata anche questa di recente la replica della Ford d'Anglia dei Weasley che a me piace tantissimo mi fa davvero impazzire e dietro troviamo invece la Mimbulus Mimbletonia o una roba del genere non ricordo mai esattamente il nome che ho realizzato io l'anno scorso se ricordate ve l'ho fatta vedere su Instagram passaggio dopo passaggio e trovate nelle storie in evidenza anche tutte le foto dei vari passaggi l'ho realizzata io è una copia fatta da me col polistirolo e anche di questa sono molto molto soddisfatto mi piace davvero tanto poi dietro abbiamo la spada di Griffondoro sempre di Noble Collection col suo piedistallo e poi abbiamo anche Picket sempre di Noble Collection così come lo è anche questa statuina dello Snaso però ho aggiunto anche gli orecchini di Aliexpress di Ermione quelli del Vallo del Ceppo e poi anche questa collana del matrimonio di Flair sempre di Ermione e anche il cuore con la freccia che Lavanda regala a Ron li ho messi tutti qui assieme al piccolo Snaso qui accanto troviamo la replica giapponese della Nimbus 2000 che vi ho recensito e che trovate sempre linkata sotto in infobox e poi qui ecco che abbiamo anche il cappello parlante con le quattro penne delle quattro case di Noble Collection la tazza della burro birra presa a Londra allo studio tour e poi questo scatolino di Mielandia di Loot Crate con all'interno queste gomme da cancellare che sarebbero riproduzioni dei dolci di Mielandia abbiamo la cioccorana abbiamo questo teschio messicano lo zuccotto e poi la lumaca ecco che abbiamo anche il boccino di Runnimpress e poi la cioccorana di Noble Collection un pezzo che costa poco e che è davvero molto molto bello vi straconsiglio di acquistarlo abbiamo le gelatine tutti i gusti più uno che ho riempito io con dei sassolini e poi abbiamo anche i fermalibri di Mina Lima sempre di Noble Collection ispirati al negozio dei Tiri Wispy Weasley e lo trovo davvero molto molto bello sono davvero bellissimi questi segnalibri questi fermalibri anzi e queste sono le mie mensole dedicate ad Harry Potter da notare che quest'estate quando ridipinto la mia camera ho aggiunto dei glitter dorati su questa parete proprio perché volevo sistemare la collezione su queste mensole e a me piacciono davvero tanto rendono la collezione secondo me ancora più magica e adesso vi mostro questo che invece non ho mai fatto vedere neanche in video e neanche su Instagram è un puzzle di Mina Lima sono usciti super giù per Natale si trovavano sia su MP ma anche su Amazon e mi è stato regalato dal mio fratello questo qui dedicato al primo film è un puzzle di mille pezzi e entra preciso preciso in questa cornice di Ikea infatti l'ho subito sistemato qui ma non l'ho ancora appeso perché non so realmente dove andarlo ad appendere non ho lo spazio ma prima o poi lo troveremo quindi volevo farvelo vedere perché secondo me è molto molto bello questo puzzle è una delle illustrazioni che più mi piacciono di Mina Lima e per concludere vi mostro questo che è il baule che ho realizzato io l'anno scorso a mano mi è stato regalato questo baule che è uguale a quello che viene venduto a Londra nel Warner Bros Studio Tour e che costa una fucilata questo mi è stato regalato da alcuni amici che l'hanno trovato identico da Conforama e io l'ho modificato rendendolo molto simile a quello che veniva venduto lì ho aggiunto le iniziali di Harry in oro e poi ho disegnato qui in alto lo stemma di Hogwarts sempre in oro e colore nero ed ho aggiunto anche questo tag del making of che avevo invece trovato in un altro articolo ma andiamo adesso ad aprire la valigia e vediamo cosa c'è all'interno qui ci sono alcune cose che non ho portato in cantina ma che probabilmente ci finiranno presto abbiamo delle vecchie carte di uno della Mattel erano le mie di mio fratello giocavamo assieme quando eravamo bambini sono ancora tutte presenti e sono delle carte che hanno tantissimi anni e poi abbiamo questo che invece è un fotogramma dei crimini di Grindelwald che mi è stato inviato da Warner Bros quando uscì il film in home video c'è anche il certificato di autenticità sul retro e questo mi piace davvero molto poi abbiamo diverse cose stampate come il biglietto del nottetempo anche questo qui il biglietto del nottetempo alcuni frammenti delle pellicole di Harry Potter queste qui ufficiali sia questo qui dell'ultimo film che è quest'altro qui e poi sotto invece troviamo i wizis di Harry Potter quindi sia quelli dedicati ad animali fantastici che è quello lì sotto che invece è dedicato ai vari personaggi di Hogwarts purtroppo non so come sporli abbiamo questo che è un libro elettronico di millemila anni fa questo qui mi era stato regalato per Natale quando ero molto piccolo e poi qui abbiamo anche una candela di Primark la candela cioccorana che non ho mai acceso questa tazza e poi altre tazze del Warner Bros Studio Tour e questi badge con alcune spillette di Harry Potter spillette che avevo trovato all'interno delle loot crate quindi ce n'è diverse beh ragazzi la collezione al momento diciamo che si ferma qui ma come vi dicevo ragazzi ci sarebbero ancora tante cose da vedere e molte sono in cantina ci sono diversi tacquini ci sono diverse cose che ho acquistato da Mina Lima l'anno scorso altre cose prese da Primark ma ho messo tutto in uno scatolone perché non erano cose così fondamentali a livello collezionistico ma erano più oggettini a tema Harry Potter ma molto fini a se stessi quindi ho deciso di portarli giù ma magari un giorno vi mostrerò in un altro video anche quelli vi farò vedere tutto quello che non vi ho mostrato oggi in ogni caso la collezione continua a crescere altre cose sono in arrivo quindi ragazzi io vi ricordo di supportare il canale iscrivendovi è un piccolo gesto per voi ma una cosa molto molto importante per me per crescere come canale come contenuti ragazzi mi raccomando date un'occhiata all'infobox vi ricordo l'indirizzo per mandarmi lettere cartoline disegni tutto quello che volete lo trovate sempre sotto in infobox il link a tutto quello che vi ho mostrato e naturalmente ragazzi sarei felice di guardare le vostre collezioni quindi potete inviarmele su instagram mi trovate come antonio.seria detto questo ragazzi io adesso vado a riordinare tutta la mia collezione perché ho dovuto tirar fuori tantissima roba per mostrarvela e quindi mi tocca andare a rassettare tutto ma noi ci vediamo presto con tantissimi altri video e l'anno prossimo con la nuova collezione aggiornata un ciao enorme a tutti e ci vediamo presto ciao ciao